Io vi prego, senza alterare ovviamente il vostro giudizio, di sapere chi è lui. Lui Gionarti è un albanese, è un albanese di tirana che ha cantato in Napoletano. Lui è un maestro di pianoforte, diplomato, vero? Io l'ho incontrato una tirana qualche anno fa, ormai è italiano da quanto tempo? Quasi dieci anni. Dieci anni e canta napoletano. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Quello l'unico amore si è stato tu, me. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in me. Ma io non ti ho perdonato, quello che hai fatto a me. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in Napoletano. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in Napoletano. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in Napoletano. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in Napoletano. E tu per un capriccio, tutto è distrutto in Napoletano. Grazie a tutti